Nel video di oggi sono andato a rompere forte a tenere la speranza di venire bannato Il risultato finale è veramente scioccante perché non me l'aspettavo Per continuare a supportarmi purtroppo anche da bannato Codice Powa nel negozio Getty E' la prima maniera per farsi bannare è proprio quella di andare online e scrivere free V-Bucks Quindi V-Bucks gratuiti Abbiamo già subito il sito raga, una roba strascam Mettiamo nome utente, eccolo qua, l'ho copia incollato Quantità di V-Bucks ricevute, signori facciamo 9, 9, 9, 9, 9 Raga non so neanche dirlo questo numero qua Facciamo genera ora raga e andiamo a vedere se effettivamente sul nostro account ci ritroviamo tutti questi V-Bucks Però di essere bannato subito Ma prima di andare a vedere se sono stato bannato raga mi raccomando Iscrizione al canale adesso e soprattutto codice Powa nel negozio Getty Grazie mille a tutti Ed eccoci No raga ho 1770 V-Bucks come ce l'avevo prima Non sono stato bannato e purtroppo questo test è stato passato Quindi purtroppo niente bann ma andiamo a vedere gli altri cosa stanno facendo Ci siamo signori Oggi avremo le hack senza avercene Perché la mia mira è una mira da hack E Fortnite ci deve provare a bannare Cioè in realtà non vorrei farmi bannare Ma dobbiamo provare a farci bannare Ok 21 prima hit tirata Ok 77 seconda hit tirata Non ho ancora missato nulla Ok 83 distrutto ragazzi Non ho ancora missato un colpo Piano 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 Dove sta l'albero? Stava qua eh Ok raga ci manca un ultimo colpo Abbiamo 100% di precisione per ora Bam Eppure in flick signori La andiamo a concludere così Let's go ragazzi Prima killozza di rifatta non a precisione ma di più Intanto là ci sta un altro player Ma io direi Cambiamo la mitraglietta che è un po' meno precisa Questo colpo raga l'ho missato apposta Se lo state chiedendo L'ho proprio missato di proposito Nel frattempo questo ci sta un po' spammando Rompe le scatole E noi facciamo Noi gli rispondiamo così al fuoco Noi gli rispondiamo così Dove sta? Senza missare neanche Ok non abbiamo missato colpi Ma ragazzi c'eva lane bot questo? Lui ce l'aveva davvero lane bot raga Ma che traccata mi ha tirato di pistolina Hashtag controller player signori Comunque ragazzi per ora abbiamo una precisione del circa 90-95% Quindi per ora forte in te Ci sta guardando Non ci credo che non avevo colpi Ok fermi No way l'hanno appena killato Ok Piano 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 Ok killato un altro Perfetto Ottimo nulla Avrei pure voluto killare un altro Ma purtroppo si erano già killati Comunque io direi Siamo messi bene Sì Vogliamo andare a demolire tutti Sì raga Let's go dobbiamo volare Signori medaglione davanti Medaglione davanti ma la paura non c'è Fermi eh Devo traccarlo Devo traccarlo Fermi 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 Adesso lo tracco appena lo vedo eh Gli tiro una traccata che è folle eh Scendolo devo vedere Fermi 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 Scendo la macchina Bam Ok sì sì signori l'ho traccato Fermi eh Guardate qua eh Pam Ok Fermi 3.60 Boom killato Easy nel chill Oh porca trova Uh quello Pam 27 Uh Diciamo che odio quando mi sparano in due persone differenti eh Però è successo quindi andiamo qua Cambio dello shield Ok Intanto ha killato il pollo Veramente sei una persona terribile Doppio shieldino anzi uno solo E si va signori Dove sta il player Da qua da qualche parte eh Fermi fatemelo traccare ok Lo sto traccando da dietro Sì ok sì lo vedo lo vedo lo vedo Io ne lo vedo Intanto c'è un altro che spara da là in fondo Brutta situazione Chi pusho? Io pusho quello ragazzi eh Andiamo signori Fermi eh Sta per Eccolo Guardate il tracking Non ci credo ha buildato Il tracking Non ha funzionato benissimo Fermi Ve lo tracco così This is the tracking Ha buildato non ci credo Non ho mai carico il pompa Sono un pollo Full boxer tracking Jump Go Signori Uno di vita Aiuto 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 Quest'arma Mi ha tirato 3 headshot ragazzi Aiuto Ok ragazzi io direi Tracchiamo ok sì ragazzi Fermi Ok con le hack Sì qua dentro c'è un medikit Ragazzi fidatevi Qua dentro ci sta un medikit Fermi signori sei in questa cassa Il medikit Qua ci sarà Ci sarà una cassa Con lo scudone eh Mentre di sotto Ovvero qua ci sta una cassa Con il medikit Lo sapevo Lo sapevo Eh sì Ragazzi quando utilizzate le hack Possono succedere queste cose Certo poi mi dicono che ferro le hack Incorporate nel corpo Però va bene comunque Cioè comunque si possono definire acqua Però se non mi sbaglio Io non mi sbaglio mai Ci stavano altre persone Che stanno ancora qua Vendo il medaglione Quindi vediamo dove stanno Eccolo Ok signori ci stanno i player qua eh Poi ci sta un player che ha fatto un po' di percorsi Ha fatto un po' di tripli edit E poi ha lasciato il tutto Allora dove sta andato Questo qua ragazzi è bello forte secondo me eh Questo qua non è per nulla male No 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 ragazzi Sono in mezzo a due medaglioni Ecco l'unica cosa che non volevo Che succedesse No Non devo essere in mezzo a due medaglioni Mai Stanno fightando l'A2 E fermi che tracca un altro player Ok ragazzi sto toccando un player Fermi Eccolo 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 Sì traccato Traccato Ok fermi Tracking No way ha buildato proprio ragazzi Un secondo Guardate il tracking Come funziona raga Vedete lui si muove Il mio mirino di conseguenza Fa la stessa identica cosa Anche dietro i muri funziona Vedete cioè ragazzi No è impressionante Il tracking è impressionante I love the tracking Il bro se ne ha voluto andare Ha fatto bene Ok no ragazzi C'è un enorme problema Questo adesso ci aspetta in safe E questo qua invece si esporrà da fuori Per romperci le scatole Mi sa che mi conviene prendere la macchina No Ti prego no bro Io odio la safe Mi mette troppa ansia la safe Studone subito Ok se si lancia qua E mi internappa sotto È un infame eh Non l'ha fatto godò Fermi No way Non l'ho hittato Il tracking non ha funzionato Ok si che funziona Funziona sempre il tracking Signori Ma perché io faccio airshot Uno mi spara l'altro Ma l'ha capito Che io ho cecchinato l'altro Ma veramente no ragazzi La gente comunque La gente comunque No ragazzi Io voglio parire Voglio piangere Li avevo demoliti tutti Con l'hame bot Ma mi spara sempre una persona Quando ne ha shot un'altra Comunque questa roba raga è assurda Vabbè la domanda è Ci avrà bannato fortnite Torniamo in lobby Ragazzi con circa il 90% di precisione No non ci ha bannato Ragazzi il mio modo per farmi in teoria bannare È quello di trovare un DMR E utilizzarlo come double pump Ora forse là lo vendono Non voglio dire una cavolata Ma forse qua vendono il DMR Ti prego Ok va bene Va bene Ok lui è la prima vittima Ok Oddio Allora Non ti dico Ti dico la verità onestamente eh Non mi è sembrato poi Tutta sta forza Sto DMR Se posso dire roba Con tutta onestà Ma va bene Teniamolo un attimo Andiamo a provare a vedere Se c'è qualche altro nemico Da pushare Da provare a uccidere Perché comunque Effettivamente Se dovesse funzionare qua E avevo anche il saltello Quindi un po' mi sono andato male Ma se effettivamente Dovesse funzionare ragazzi Potrebbe essere Ufficialmente Un'ottima cosa A quanto pare Signori prossimo nemico Ok Allora posso dire verità Ok posso dire verità Allora nel senso È un po' difficile Dire se funziona Oppure no Questa roba A parte che ho solo Quattro colpi pompa È un po' difficile Dire se funziona Oppure no Onestamente eh Dio un po' Allora è finito Allora lì c'è Artemide Ma il bro ragazzi Scusatemi Ah ok Si è tipo Volatilizzato ragazzi Nessuno ha colpi pompa Tra l'altro Ah ecco qua finalmente Allora Ah eccolo là Finalmente ok Andiamo a vedere un attimo Ok attenzione Oh Ah non vedi Ah effettivamente Ha una precisione Un po' del cacchio Nessamente Però sai che Dio di una verità Non è male Guarda là c'è un altro nemico Anche là Attenzione Andiamo a prenderlo Andiamo a prenderlo là Vediamo un po' Oh Ah non vedi qua Che robetta Ah dai dai Non è malissimo Non è malvagio ragazzi Non è malvagio È solo che Non penso Non penso possa essere bannato Effettivamente Perché Cioè Oggettivamente è un È un GMR Cioè non Non penso posso essere bannato Tramite questo Poi attenzione qua c'è un nemico Ok attenzione Ok 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 attenzione Ok 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 ragazzi La precisione di quest'arma Lascia a desiderare Devo dire la verità Comunque Direi che no Non sono stato bannato E Basta in realtà E signori benvenuti In questa live Ragazzi come state Ciao Francesco Ciao Alessandro Ciao Luisa Allora signori In questo momento Stiamo facendo un server privato Ok Però mi raccomando I nostri misopriati come Fate sempre Ok Questo è il primissimo server Della live Quindi cerchiamo magari Di non farmi arrabbiare subito Io me ne sono andato In un posto lontanissimo Infatti Cioè se qua viene qualcuno Ragazzi è letteralmente impossibile Luto il più possibile E poi ragazzi Ci riuniamo Tutti quanti A colonne commedianti E poi possiamo iniziare a fight No Aspetta C'è uno C'è uno qua ragazzi Fermi fermi Ci sono due persone Com'è possibile No no raga Allora mi devo un attimo sbrigare Mi devo sbrigare Prendo subito un'arma Ok perfetto No dai E' meglio magari Prendere un pompa Se è possibile eh Sì sono arrivato via Perché qua mi stanno Praticamente uccidendo Mi stanno uccidendo ragazzi Porca di quella trota Allora Con calma Con calma Saliamo un attimo Qui Ok ok Mamma mia se c'ho paura Mamma mia se c'ho Una paura ragazzi Incredibile di essere Stremi Senneprato Qua ci sta uno Ci sta uno Ci sta uno Fermi fermi No no vado via Vado via Vado via Vado via No 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 Porca di quella trota Chi è questo qua Vado via Vado via Vado via fortissimo ragazzi Qua sopra c'è anche una jump Quindi magari la posso prendere Per scappare Secondo tentativo signori Sono nella stessa partita Con Conti Oh mio dio Eccolo qua subito Eccolo qua subito Allora Attenzione 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 raga Attenzione Non voglio ucciderelo subito Perché come vi ho detto Voglio farmi bannare Quindi adesso Proverò ad andare a farti Mingo con lui Vedete Adesso faccio così Swingo il piccone raga Ehi Ehi Amico bello Sì sì Sono amichevole Signor Conti Sono amichevole Sai tranquillo L'importante è che non mi uccidi Oddio Vuole fare amicizia Vuole fare amicizia Ok 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 Però Mamma mia raga Non mi ammazzate Ma questo è un finicotto Sempre quasi la skin tipo Mi raccomando Non so chi sia questo qua Ok Non lo so Allora Adesso raga Faccio finta di droppar gli armi Guarda ti droppo questa roba qua Tanto non mi serve Vedi Vedi Ti voglio bene E poi raga Lo andiamo a sorprendere Boom Lo andiamo a sorprendere Uccidendolo Però prima raga Sapete che cosa Me la voglio Me la voglio un po' giostrare In una maniera un po' strana Per esempio Me ne vado Me ne vado Dentro la casa Viene qua signor Conti Viene qua Bomba Ok Non mi Stremi sniperate Cioè non mi uccidere bro Non so tu chi sei In questo momento Ma basta che non mi ammazzi L'importante è questo Vado con lui ragazzi Lo seguo Facciamo finta di essere suoi amici Però vi dico che tra poco Mi sa che lo ammazzo eh Tra poco lo ammazzo Perché non è che mi fido tanto Di questo qua sinceramente Allora andiamo a lotare Un po' di armi Ragazzi vi ricordo che ci dobbiamo Riunire tutti quanti A campi candidi E poi da là possiamo Iniziare a fightare Ovviamente seguite Le regole che vi ho detto Non fate di testa vostra Questo fenicottero Per esempio Mi sembra molto molto bravo Perché sta facendo tutto Quello che ho detto A inizio live Cioè di non uccidermi subito Quindi molto molto bravo Questo fenicottero Vincerà il premio Eh un premio E basta Dopo gli facciamo un balletto al bro Gli facciamo un balletto Aspetta Miu miu Guciavel Prendiamoci un attimo Anche le bende Ok ottimo Io ho paura di questo qua Perché ok Sta facendo troppo l'amico Io ho paura che Da un momento all'altro Questo mi possa tipo Streamy sniperare Cioè ho questo piccolo Presentimento Tra l'altro la cosa divertente Raga che adesso appunto Lo sto andando a streamy sniperare Ma sto anche facendo teaming Raga Quindi è come se facessi Praticamente due in uno È molto strano come roba Due bani in uno Però sarebbe assurdo Prendo le ali E me ne vado via Via di qua Oddio C'ho questo in macchina Volendo lo posso anche seguire Posso andare anche con lui In macchina volendo Stai che mi frega Ok a posto Faccio lo schifoso ragazzi Gli buco le ruote Gli buco la ruota Ciao perigottero Ciao pezzo schifoso No 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 Non mi investire Non mi investire bro Raga Questa qua è la cosa più illegale Che io abbia mai fatto Ovviamente non fate teaming Non ve lo consiglio assolutamente Dopo lo vado ad uccidere Ok Epic Games Se stai guardando questo video Tranquillo che dopo lo vado ad uccidere Il problema raga Io non vorrei Non vorrei assolutamente Farmi Bannare adesso Cioè dopo Più che altro Finiamo la partita Streamy snipero Ma lo voglio far arrabbiare Ragazzi Quello è il mio obiettivo Allora Senior Conti Venga qui Venga qui Tanto non mi sente raga Però dov'è Vieni nella mia macchina Vieni nella mia bellissima macchina Entra Let's go Oh mio dio raga Non ci credo Non so come facciamo Non essere ancora bannati No bro 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 Che stai sparando Perché Perché Conti Ma che senso ha Lui ovviamente non sa Che sono io Intendiamoci eh Voglio stare anche un po' distante da lui Perché ho paura Sinceramente tipo di morire Non vorrei capire Morire subito subito Ok Non ha avuto senso fare questa cosa Che appena fatto signori Però comunque è salito sopra Adesso ce ne andiamo in giro Con una ruota bucata Vai a capire il perché E andiamo a uccidere la prossima persona Oddio 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 Gli sto facendo danno Oddio Scusami 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 Non volevo Signor Conti Non volevo Stia tranquillo Andiamo a colonne commediante signori E poi possiamo Oh c'è uno qua Orco C'è un altro C'è un altro qua C'è un altro qua Fermi fermi C'è uno qua C'è un altro C'è un altro ragazzi Mi devo un attimo curare Fermi Che rimango nella bolla Oddio vediamo se sto finicottro mi aiuta Fermi Ok 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 Vai 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 Torniamo sulla nostra macchina Con la ruota bucata Vai Ottimo Ok Raga Io sono un finicottro E lui è Spider-Man Se collega un attimo il cervello Capisce che sono io Oddio sta ballando Ce n'è un altro però Ah no è sempre lui È sempre lui Ok andiamo andiamo Basta non sparare Basta Ma ancora sparata la ruota Smettila Conti Ragazzi non ce la faccio veramente più Ok allora raga Adesso voglio fare una cosa Oh Oh mio dio Oh mio dio Ma che sta facendo Conti allora vieni Adesso ragazzi Io lo voglio cercare di andare ad uccidere Vieni qua Vieni qua bro Vieni qua Fidati Vieni qua Perché adesso facciamo una super giocata Eh Facciamo una super giocata Sei pronto? Sei pronto? BAMOM A poi signori Continuiamo il nostro viaggetto Comunque Una Scrivete qua sotto nei commenti Nella live Se avete mai visto una coppia Di innamorati Tra un finicottero E uno Spider-Man Io sì Immaginate tipo che questa skin È pova Farebbe troppo ridere Raga Troppo ridere Ma io ripoco la ruota ragazzi Io ripoco la ruota Gli ripoco la ruota Così ragazzi Si arrabbia tantissimo Si arrabbia tantissimo Questo dice Non so chi sia Ma non è un problema Gli buca anche l'altra ruota Ok? No no Gliela devo bucare Oddio L'ho mandata a fuoco Sì bro dai Volevo un po' trollarti Ok? Volevo trollarti No Sta a fare la Skybase questo Fa la Skybase Ma perché? Ma perché vuole fare la Skybase? Vabbè vuole Vuole trarre tipo l'impulso? Che vuole fare? No No Che strumento? Lo sapevo Lo sapevo No Dai Che pezzo schifoso Boom baby Boom baby Super trollato raga Avevo fatto timing L'ho trollato Incredibilmente raga Spero di venire bannato In questo esatto momento No raga Così no Però che palle Dai raga Chi è quello in chat? Scrivetemi in chat che è stato Dai che palle Non ci credo Questo qua si dovrebbe proprio vergognare Ma che coglionberini però Ma come si permette questo qua? Signori È arrivato il momento di quittare Vediamo Se questo sarà il momento Della verità Oh mio Dio Oh mio Dio raga Bannato per un giorno Raga mi aspettavo di più Sapete? Però niente Per un giorno allora Non usciranno video ragazzi Mi dispiace